Saluto da Dottor Palmas, SS Turismo Dentale Dentisti Moldavia, bentornati al campus sui problemi della parodontite. Per perdere i denti significa tante cose, equivale a subire uno shock psicologico abbastanza forte, specialmente se si è giovane, specialmente se si vive in un paese dove per poter rimettere i denti bisogna avere tanti soldi, parliamo di 20-30 mila euro per poter rifare una bocca completa, addirittura si arriva anche delle volte a 50-60 mila euro con i migliori materiali, con le migliori soluzioni, innesti osso, casi anche complessi. Se uno è giovane, se uno non ha i soldi, se si è impediti dal poter rimettere i denti significa parlare i codici con le persone, con la donna che ami, con la ragazza che magari ancora non hai conosciuto, che magari potrebbe diventare tua moglie o che magari ti lascia, che hai già conosciuto e ti lascia perché quando sbadiglia ha visto qualcosa in bocca che non gli è piaciuto, magari ha visto uno scheletrato, qualcosa di metallo che passava sul palato e magari associa il fatto che ogni tanto c'è quello strano odore che esce dalla bocca e dice ma questo c'ha la fogna in bocca, ma io non lo bacio quello. E c'è un altro studio che hanno fatto che le coppie si selezionano, l'American Dental Association ha fatto questo studio, secondo l'odore, ovvero il partner viene selezionato secondo l'odore, quindi delle volte il fettore di bocca può essere un elemento determinante e sconvolgente nella vita di una persona, cioè può portare proprio a uno sliding door, a un universo parallelo dove tutte le cose più belle che si sarebbero dovute verificare nella tua vita, le cose più belle che ti saresti meritato non si realizzeranno perché sei nato in un paese dove ti verrà impedito di risolvere un problema magari genetico come la carenza dell'interleuchina 1 oppure dei fattori che in tutto non susseguirsi i fattori che hanno portato a questo mondo parallelo. Allora lì inizia l'incubo, inizia l'incubo di andare in giro con gli amici a mangiare la pizza e lasci la crosta sul piatto. Ma perché mangi la pizza così? No, a me la pizza piace solo la parte interna, non mi piace la crosta. Oppure vai in giro, arrivi lì e ti è cascata qualcosa alla bocca. Quella frazione di secondo in cui fai così gli amici magari non ti hanno visto tutti, ti ha visto un amico e quell'amico parla con Andrea e dici oh ma hai visto Luca? Luca, ciao. E allora magari il gruppo di amici quando tutti i volti fanno tra loro, si guardano e fanno così. Ok e inizia a cambiare a livello del gruppo sociale la percezione che i tuoi amici hanno di te. Oppure questo così magari lo fanno in presenza della tua ragazza, la tua ragazza si sente a disagio perché ha capito perché i tuoi amici fanno così. Il sorriso, i denti sono un elemento di posizionamento sociale, sono la prima cosa che una donna guarda in un uomo, la seconda sono le mani, la terza è il sedere, il viso certo anche quello, c'è chi dice il portafoglio, ieri sera ero con degli amici e mi dicevano guarda che la prima è il portafoglio, non generalizziamo. Per quanto riguarda il sorriso ti posso assicurare che tutte le donne la prima cosa che guardano è il sorriso, ma non solo le donne, i denti è un po' come i cavalli, se vuoi vedere la storia di un cavallo, la salute di un cavallo basta che lo guardi in bocca, io ti posso assicurare che anche guardando in bocca a un mio paziente io ti posso dire cosa ha passato con la persona. È il motivo per cui tantissime persone che ho conosciuto qua in Moldavia sono delle persone straordinarie, la bocca parla, la bocca è il nostro passato, sono le nostre vicissitudini, tutto ciò che ci ha causato mare forza nove nella nostra vita. Il problema però resta, quello è il passato, ora rimane il problema di dover rimettere i denti, per poter rimettere i denti ci vengono chieste delle cifre assurde nel nostro paese. Il paese, l'Italia, l'Inghilterra, l'Uk, la Germania, la Francia sono i paesi in assoluto il più costoso e l'Australia, un impianto dentale può arrivare a costare 6.000 dollari in Australia, poi c'è l'America che arriva con i 3-4.000 dollari, poi c'è l'Italia, stime dell'Andi, mediamente ha rilevato nel 2012 tra i 1.600 e 2.000 euro un impianto dentale, il low cost si può arrivare a 990 euro un impianto dentale, l'Uk arriva a 2.500 un impianto dentale, ma se noi ne dobbiamo fare 10, allora capiamo che lì il problema è veramente serio. Noi sbagliamo delle volte a parlare di prezzi, a parte che un medico non dovrebbe avere il listino prezzi, uno fa il medico per vocazione, non per professione, un po' come fare il politico, se vuoi fare il politico lo fai per vocazione, non per professione, infatti dico sempre dovrebbero stare aperte le università di medicina o odontoiatria, se vuoi fare l'odontoiatra poi finisci, ti paga lo Stato, il tuo stipendio di 1.200 euro al mese, fai praticamente volontariato perché sei un medico, non sei un imprenditore, allora vediamo in quanti vanno a iscriversi in odontoiatria e quanti in medicina. Per vocazione, non per professione. Ma invece cosa succede? Che viviamo in un paese dove a un certo punto ti devi procurare questi soldi, magari non ce li hai tutti questi soldi, allora ti viene proposto, guarda hai perso 6 denti, mettiamo uno scheletrato, aspettiamo che perdi gli altri, quando li perdi li aggiungiamo sullo scheletrato, da arrestare chi dice questo, perché un medico non deve aspettare che la cancrena aumenti per tagliare la gamba, che il medico deve intercettare la cancrena, tagliarla subito e con i soldi statali andare a ricostruire con la migliore protesi esistente, che è stata studiata con i fondi per lo sviluppo della scienza, che sono patrimonio dell'umanità. La scienza è patrimonio dell'umanità, non può essere fatto lucro con quello che lo Stato all'università mi ha trasmesso. Io non posso lucrare. Il momento in cui mi chiedo soldi per applicare le mie conoscenze scientifiche che mi sono state regalate dallo Stato, che sono patrimonio, millenni di progressi che mi sono stati comunicati dall'università statale, allora non posso essere abilitato io a mettere alla merce la mia conoscenza, è strategica la conoscenza scientifica e medica e deve rimanere pubblica. Cosa succede? Si creano delle caste nei paesi che proteggono il sistema sanitario, magari 40.000 persone che decidono la salute di 60 milioni di persone, come deve essere, se privata o pubblica, quale deve essere per esempio il listino prezzi della tua salute e viene praticamente creato che cosa? un tarifario, tarifario nazionale per esempio dei medici. Nessuno si rende conto di quanto è strano che la salute abbia un tarifario e allora si nasce in questi paesi dove questo è normale e si accetta il fatto che per andare da un medico bisogna pagare un tarifario. Questo è il principio di tutti i mani, se noi non avessimo il tarifario perché la salute viene fornita gratis dallo Stato, quindi non ha senso che ci sia un tarifario, per esempio vi faccio un esempio l'acqua pubblica, l'acqua potabile pubblica, se io andassi alla fontanella e trovassi a un certo punto il tarifario mi stranirei e direi ma come quel rubinetto è pubblico, non ha senso che io ho una tarifa sull'acqua che sgorga dalla roccia di questa fonte per esempio, togliamo il rubinetto, perché è un bene pubblico, è un servizio pubblico la salute. Allora se noi abolissimo i tarifari allora elimineremo il principio di tutti i mali delle professioni mediche. Ok? E adesso ve lo spiego qual è il principio. Un qualcosa di cui non parla mai nessuno è il grande conflitto di interessi che affligge la sanità. Chi decide ciò di cui tu hai bisogno è la stessa persona che si intasca i soldi. Ok? Quindi io che sono medico e tu che sei ignorante posso dirti che hai questo problema oppure che hai questo problema e che la soluzione è questa oppure questa. Posso anche avere due lauree, tre lauree, ma se uso la conoscenza a mio vantaggio e il rischio è veramente alto dal momento in cui i soldi piacciono a tutti, allora si innesca il conflitto di interessi, ovvero dove chi decide ciò di cui tu hai bisogno. Io ti comunicherò il problema che tu hai, ma non è niente, è normale, stai perdendo i denti, è l'età. È la stessa persona che poi più avanti si intasca i soldi. Guarda, dobbiamo mettere gli impianti dentali, è arrivato il momento di operare, di prendere sotto mano la situazione. La situazione la dovevi prendere sotto mano quando c'avevo la gengivite. Hai mai visto sei anni fa con la gengivite? Ok? Questo è il conflitto di interessi, ma che non c'è solo nella medicina. Esiste nei sistemi privati della medicina. C'è molto meno nei sistemi pubblici questo conflitto di interessi se non per niente. Molti dicono che facciamo la sanità con le assicurazioni private, peggio ancora, perché è un po' come aggiustare la macchina. Per esempio in America c'è l'assicurazione privata. Delle volte si pensa che l'America sia meglio rispetto all'Europa, in realtà non è così. Con il sistema delle assicurazioni i dentisti vengono rimborsati dall'assicurazione per un certo tot. Il dentista per guadagnare da quello che gli dà l'assicurazione deve fare margine a discapito dei materiali. Infatti in America esistono ancora le otturazioni in metallo, in amalgama. Non sono così liberi di utilizzare i materiali che vogliono, perché devono stare entro i limiti dei rimborsi assicurativi. Questo è l'aspetto negativo della sanità con le assicurazioni. Invece questi problemi non ce li avremo se i materiali fossero dati dallo Stato, se lo Stato avesse le sue fabbriche domani. Uno Stato come per esempio uno Stato europeo con un certo PIL prodotto interno lordo, una fabbrica da 3 milioni di Euro di impianti dentali, di materiali, se la potrebbe costruire domani. Mandare questi materiali negli ospedali pubblici oppure convertire gli studi privati medici o dentoiatrici in proprietà dello Stato dove ci lavorano professionisti che sono stati formati dallo Stato, lo Stato gli ha pagato la formazione, gli ha pagato i corsi, gli fornisce anche materiali e gli dà uno stipendio statale con materiali che in realtà hanno un costo irrisorio. Questo lo potremmo vedere magari un domani se succedesse un cataclisma nel mondo. Noi ci stiamo provando, infatti vi invito a firmare la petizione che ci porterà in Europa a proporre il nostro modello di sanità europeo. È inutile che lo portiamo in Italia perché in Italia ormai il governo non conta nulla, i parlamenti statali non contano nulla, bisogna andare ai governi sovranazionali e andare lì a ottenere poi dei fondi con cui creare un principio di rivolta e di cambio delle cose. Comunque cliccate questo bottone qui sotto che vi porta direttamente sulla petizione da firmare. In più vi invito anche a scaricare il libro che abbiamo scritto che fa capire qual è lo stato attuale dell'odontoriatria, del conflitto di interessi, dell'assurdità delle tariffe in ambito sanitario e che vi farà vedere alcune cose che ho scoperto questi anni facendo inchiesta in giro per l'Europa. Per ora un saluto, vi do appuntamento al prossimo video dove vi parlerò delle soluzioni, dei tipi di terapie che possiamo adottare in pazienti che hanno perso completamente i denti. Un saluto da Dottor Palmas, SOS Turismo Dentale, Dentisti Voldavia.